ben tornati in questa nuova parte come le urla di davide preannunciano qualcosa di molto interessante tutto dove andare a preparare un uovo perduto nei livelli passati facciamo una martinica hai perduto un uovo nei livelli passati hai perduto un uovo nei livelli che è schifo il ciccione che va a fuoco ma che cazzo davide perché non lo prendi in culo perchè non lo prendi in cura davide prendilo in cura eh lo so ci stavo pensando perchè il down guarda che down è un down o un up è un doppio down un'infezione virale mi ha ucciso sei morto un'infezione virale e vola app in alto di così il drago gay il mistero del drago gay cazzo dice meno male ma che cazzo ti vuoi sapere cazzo 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 caz Davide, ti ricordi quando Milaus sparava con l'aereo dell'esercito per finta e diceva Beccati questo mamma, beccati questo papà, così imparate a portarmi dallo psichiatra Anche a te li hanno portato dallo psichiatra, vero? No, ma dovrebbero portarmi Si è fuso il joystick Si è fuso il joystick Non far laggare Fatto Uccidilo, uccidilo Uccidilo, pancia, uccidilo Perché sto andando a fuoco? Sto andando a fuoco! Oh mio Dio, mi stanno uccidendo Facciamo il livello di Sparks Alla prossima!